Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami Sì, questo è un convegno che noi vogliamo mettere in atto per promuovere il territorio il territorio non solo del Salento che è molto ricco di tante tipologie, diciamo di prodotti in modo particolare qui l'eno gastronomia è un grande punto di riferimento è una calamita oltre che il mare anche l'alimentazione, qui dal vino, dall'olio, dalle conserve tutto ciò che si produce dalla terra perché qui grazie a Dio il sole splende 365 giorni l'anno e quindi la produzione proprio della terra è naturalmente una cosa molto gradita sapori meravigliosi molto accettati soprattutto dai turisti che provengono da tutte le parti del mondo e quindi questa è la seconda manifestazione che noi facciamo qui a Dothranto siccome l'anno scorso abbiamo raccolto un sacco, un numeroso contributo di presenze abbiamo voluto raddoppiare anche le giornate per quanto riguarda la manifestazione infatti l'anno scorso durava due giorni, quest'anno invece è stato raddoppiato il numero dei giorni sono quattro giorni, il primo di giugno, il due, il tre, il quattro e ci sono dei concerti anche con musiche particolari del territorio, delle bande particolari e poi ci sono numerosi stand che promuovono il prodotto locale ma non solo del Salento, come dicevo, dell'intera Puglia quindi è qualcosa di molto interessante, poi sono tanti altri punti interessanti c'è la possibilità di guardare le stelle, c'è un punto di riferimento con dei cannocchiali proiettati verso l'alto quindi naturalmente è possibile diciamo scrutare le stelle di sera e quindi c'è anche la presenza di chef di livello internazionale che vengono qui da noi in questa occasione quindi promuovono, fanno vedere anche proprio come si produce un bel piatto come si crea un piatto tipico con prodotti tipicamente salentini e pugliesi Buonasera, sono Luigi Patrono, un docente della facoltà di ingegneria e nonché il referente della start-up innovativa Sofix, che è uno spin-off IELA accademico in questa occasione presento come organizzatore di questo evento dal nome Strategia Opportunità per Valorizzare il Turismo in Puglia quali sono gli ingredienti fondamentali che abbiamo cercato di concentrare in questa manifestazione il nostro obiettivo è stato quello di raccogliere quelli che sono gli attori fondamentali del turismo in Puglia dai prodotti di eccellenza come vino e olio a rappresentanti del divertimento in Puglia come sale da ballo, balneari, consorzio Puglia d'Occo e tanti altri Qual è l'obiettivo strategico che noi vogliamo perseguire con questo evento? è quello di andare a creare sinergia e quindi seminare la possibilità di creare rete tra gli attori fondamentali che possono comunque, se cooperano tra di loro offrire l'opportunità di un turismo veramente di eccellenza per la stessa Puglia e soprattutto, sebbene strutturato, utilizzando anche le eccellenze e le innovazioni che noi possiamo fornire, come nell'esempio specifico della start-up che qui rappresento è possibile soprattutto non solo coccolare maggiormente il turista ma anche creare un rapporto, il duraduro e solido con il turismo in Puglia Suoni e sapori del Salento di Puglia dal 1 al 4 giugno in diretta su Radio 00 Radio 00, Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami